Nel tempo della prova. Lo stato d'animo di tanti di noi si può racchiudere proprio così, con questa espressione che ci fa sentire l'uno accanto all'altro, nel tempo della prova. Abbiamo iniziato la Quaresima così, guardando Gesù nel tempo della prova, all'inizio del Ministero. Abbiamo pensato che in qualche modo anche noi avremmo dovuto seguirlo, ma mai avremmo immaginato che saremmo stati gettati nel tempo della prova. La vera prova non la scegliamo noi, nemmeno ce la manda il Dio. La vera prova viene dalle circostanze, dagli eventi, dalle situazioni. È imprevista. E allora che cosa facciamo? Nei giorni in cui non possiamo celebrare, non possiamo vivere momenti comunitari. Ci sembra tutto ci sia stato tolti. Allora resta la parola. La parola nel tempo della prova. La parola che nutre. Ha nutrito Gesù nel deserto, come aveva nutrito il popolo di Israele. E quella parola che ogni giorno la liturgia ci offre, che possiamo leggere personalmente, che avremmo ascoltato quelli che avrebbero partecipato all'Eucaristia quotidiana. Proviamo ad ascoltarla insieme. Proviamo a farci accompagnare in questi giorni difficili, nel tempo della prova, dalla parola. È la parola che ci nutre, ci guida e ci rende più figli amati dal Padre. Per oggi, che bella parola la liturgia ci offre Gesù, che dice ai discepoli, voi siete tutti fratelli. Abbiamo bisogno di sentirla questa parola. È vero, c'è il Maestro e Lui, uno solo. C'è il Padre, quello celeste, che non ci abbandona, non si dimentica di noi, ci segue con premura infinita. E noi, e noi siamo tutti fratelli. Non dobbiamo allora lasciarci prendere dal timore, dalla paura, dalla diffidenza. Non si tratta di chiudersi all'altro perché devo salvaguardare me stesso. Si tratta di essere attenti, e le norme sono tante, anche dure in questi giorni, intaccano la socialità e la nostra esperienza comunitaria ecclesiale, ma lo facciamo per amore al fratello. Ci sta a cuore la sorte del fratello, del più debole, dell'anziano, di chi è messo a rischio dal nostro contatto, di chiunque. È nostro fratello, è amato da Dio come noi amiamo noi stessi, e noi cercheremo di amarlo così.